It's time to play the game Ok Addirittura Rollins Seth Rollins ci commenta le robe Gabriel Slade Vediamo che dice Randy Orton Chiaramente ha preso una direzione sbagliata Sono lieto che non faccia più parte dell'Evolution E meglio ancora della WWE Hashtag tanti saluti Minchia Eravamo in aeroporto Siamo rimasti in aeroporto con Trevish Una ex superstar Che però non ho capito bene che grado di parentela Se c'è Credo sia un nostro parente Perché dovrebbe venire qui Ecco No non credo si riferisse a quello 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 Ecco Bisogna imparare a giocare all'interno delle regole del sistema Ma queste British Rules Match cosa vorrebbe dire? Non ho mai sentito devo dire la verità Proviamoci Proviamoci Anche perché voglio dire Leeds Inghilterra Oh ma questa parte della storia è davvero interessante Eccoci qua siamo nel pub Ehm ma devo combattere qui? Cioè dove devo combattere? Un torneo Ne ho Uuuuuh Damn Ok vediamo Usciamo dalla mia comfort zone Ehm guarda Ecco Ok Di fatti per essere me stesso ho cambiato anche la gimmick L'estetica del personaggio Perché non siamo più nella WWE E' inutile andare lì tutti vestiti Ferifichi Ci mettiamo Così Sobri E ripartiamo da zero Oddio nelle arene Veramente Proprio Ah ma c'è Ah beh Comunque una mini ingresso Col Col fuocherello C'è Eccomi Oh la tenuta è proprio easy 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 E via Nessuno che fa la telecronaca Nessun niente Che tristezza Guarda dove siamo finiti Devo combattere contro Adrian Buck Allora Allora il meglio delle tre Non si esce del ring Non si Fanno movimenti Dalla terza corda Allora Terza corda io li faccio Tanto per Perché non è di certo il mio Ehm In realtà io questo Dovrei Non massacrarlo Di più Perché insomma Adesso che mi sono anche dato Una potenziata Cioè Questo veramente Dovrei prenderlo A calci Dall'inizio Alla fine E mi sembra di stare Proprio facendo quello Poi vediamo come finisce Eh però Boom Scaraventalo via Allora Prendendo per i capelli Lo stiamo prendendo per i capelli Nel senso Lo stiamo malmenando Adesso ti becchi La mia mossa speciale E vai a dormire E uno a zero Ok Adesso Lo tiri su Mossa finale E facciamo Back to back Anche il 2 a zero E il primo Ce lo siamo tolti Insomma Combattevamo la WWE E' chiaro che siamo Di un altro livello Totalmente Rispetto a questa roba qua Olè Adesso in tiro Dovrebbe arrivarne un altro No Siamo Siamo tornati qui Eh forse perché Non sono uno dietro l'altro Ma è un torneo Con diversi Ring Eh E' stato abbastanza divertente Ma si dai Eh Queste conversazioni qua Chi se ne frega Vediamo chi è il mio prossimo Match Eccoci qua Contro Trent Show Ovviamente No che cazzo fa No Ma che cazzo fa Questo Non mi toccare Ok Ok va bene Questo mi ha già Fatto più male Di quanto me ne ha fatto Tutto l'altro Oddio Ma da quando so fare Ste robe Vabbè Di quanto me ne ha fatto L'altro in tutto il match Adesso Sono cazzi tuoi Eh Ma poi è agilissimo Cazzo Guarda quanto Non si può Ma non si può Ehi Ehi Non si può Pezzo di merda Che cazzo fa No no Questo mi sta facendo Incazzare Mi sta facendo Un male porco Poi tra l'altro Tro E vaffanculo Un po' Prendilo su E ribaltalo Per cortesia Oh La Proviamo lo schienamento Sleale Ma che cazzo vuoi Lo butti all'angolo Gli tiri un calcione Anzi Non un pugnone Lo ritiri su Gli fai questa E lo schiena di nuovo Vai Un Due E a dormire Guardate Questo qua Mi ha riempito Di mazzate Senza senso Ma pensa te Oh Che cazzo fa Questo vestito Da Con la tenuta Da wrestler Cosa fa Mica devo combattere Contro di lui Non potrà partecipare Alla finale Così Qui presente No Ma amico mio T'ammazzo C'è guarda Che non ci vado piano Senti che ovazione Tra l'altro Ma questo C'ha 70 anni Dai Per piacere Oh Lo ammazzo Questo lo ammazzo Ma non riesco a capire Qual è il mio rapporto Deve esserci un rapporto Di parentela Che mi sono perso Vai Trevish Quello di Call of Duty Trevish Nella mia mente Non esistono altri Hai lo Bello Bello Oddio Non dovevo premere X Non l'ho premuto Ma che ne so Io No Ma no Era bellissima L'ho sprecata così Eccoci Adesso me ne prendo Che palle Oh Però questa Te l'ho ne versata Ciccio Forco 2 Ma come ha fatto Scusami Oh Dai Andiamo Sì Posto peggiore Per farla 75.000 Road break Ti prego No Non ci posso credere Non ci posso credere Ah ma perché ha usato La finisher È uscito Con la finisher Ok Questa è una spinebuster In teoria Non lo so Uno Due Ma basta Ma basta Ma è mio fottuto Nonno Basta No 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 Tirati su Dio Cristo Adesso gli fai anche la mossa speciale E non lo so Cioè Non lo so Dio madonna De Dio Oddio Cristo E siamo appena uno poi tra l'altro Cioè Ecco Bello Ora che serie di reverse Uno dietro l'altro Non ci posso credere E Match del secolo In questo Cazzo di posto di merda In Inghilterra Boom Chiudilo con lo schienamento sleale Uno Due Tre Godo Con lo schienamento sleale Contro mio nonno Che non so se mio nonno Però vabbè dai Stupido Godo Muto Muto devi stare Sì dai Diamoci la mano eh Non facciamo cazzate Però Allora C'è qui Chosen Ma non so se Chosen È il nome della storia Di questa parte di storia O cos'è Ah no È il nome del personaggio V.I.P. L'unico 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 V.I.P. Non so se 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 Vabbè ma che cagata dai Vabbè va bene Ancora E' più di così Di fondo ti ammazzo di legnate Ok Se non sono successo di farmi 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 In sicurezza Vabbè Chosen è il migliore Ok Siamo finita Grazie Il mio account social è stato fuori lì Ma questo lo metterà all'interno Ma i miei fani, i chiusi, i chiusi Sì, i chiusi a sentire tutto quello Cosa significa? Oh, non è solo per la mia self-confianza Ho registrato quello che hai detto sul telefono Quindi potrei postarlo Il tutto il mondo deve sentire che hai chiusi È il più grande Sì, sei la vera Scusate, ho già parato a registrare Non posso prendere quello che hai detto Tu vedi di perder perché se ci troviamo in finale ti ammazzo di legnate Oh, bello È l'ordinario È il mio avversario per il match di qualificazione Siamo in un'altra di queste arene Che dire secondarie Dire poco del mondo Del wrestling mondiale Ecco, questo idiota Che sembra un personaggio neanche finito Di essere creato Mi ha appena reversato e mi sta prendendo ammazzate Giuro su Dio che appena mi alzo sei morto Oh, là E adesso visto che si può Andiamo anche sulle corde Non si gioca più le British Rules Lei Questa qua Da quando l'ho saputa fare? Non lo so Vai Non spreco neanche la mossa finale? Forse serve Sai invece Dai Eccoci qua È stato più faticoso del previsto Ma da questa non ti rialzi Caro È l'ordinario Che poi Siamo in Giappone È l'ordinario? Cioè Sarebbe stato figo Andare a combattere In Messico Contro quelli della Lucia Libre Che è una scuola di wrestling Molto Molto Particolare Anche il Giappone Ha il suo perché Però Boh Contro è l'ordinario Intanto ci siamo qualificati Dai L'EPEX Tournament È finalmente qui Come ti senti? Un po' 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 Perché Questo tournament È così importante A te? Eh Voglio vendicarmi Posso usarlo Per dare vita A mia carriera Dai L'evento è deltissimo profilo Ah sì I wouldn't mind beating a few current WWE superstars in the process Got it So this is the part where you explain the format of the tournament You really need to start doing your research The tournament's participants are split into two groups Each group's wrestlers face off in round robin singles matches Wins are worth two points, draws won, and losses zero The winners of the two groups face each other at the Japan Dome to determine the tournament champion And that's a big deal? Yes I've competed there a handful of times earlier in my career But only in opening matches The final of the Apex tournament will be the main event at the Dome Ok So yeah I'd say that's a big deal Eccoci qua Contro Paragon J Pierce Ma questa è già roba di WWE lui Ah C'è più di qualche Wrestler O ex-wrestler Della WWE Oltre a me Allora Mmm Ok Ok Allora Primo match del girone Vediamo di prenderli tutti a legnata Non so quanto vedrete di questi match Spero non ci sia niente da vedere E via Vai Sparagli sta powerbomb E poi proviamo anche a schienarlo Che forse già basta così Eh 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 Sì ma non posso schienarlo E poi si alza prima di me Dai Per piacere Che cazzo fa Dai 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 Dormir Su Ananna Uh Due Tre Grazie Sotto il chi tocca Col prossimo Vediamo cosa c'è da dire Trevis Settimane difficili Ammichia addirittura Ma quanto cazzo dura sto torneo Madonna mia Ok Continua così Va bene I guess There is one way You could get some extra rest But it would go against tradition Typically you participate in tag matches On tournament off nights But you could skip them So You want to earn the respect To the Japanese fans And show them you have fighting spirit Or tell PWJ and the fans To shove it And rest up Dovrei riposarmi Mi sembra ovvio Ma onoriamo la tradizione Perché d'altronde Siamo nella merda Cerchiamo di farci amare Da tutti E da tutto Il possibile Tutto Vai Ma il tag team match E la finale del torneo Li vedremo nel prossimo episodio Che abbiamo fatto davvero Tante cose Stiamo pian piano Ricostruendo la nostra carriera Da zero E mi piace molto Questa seconda fase Della storia Spero vi sia piaciuto Mi piace Commenti come sempre Iscrizioni Tutto quanto Ci vediamo domani Nei prossimi giorni Con un nuovo episodio Ciao boys